Mi trovo a Vallodella Lucania presso il Draft Beer & Food in occasione della presentazione del libro La mia ragazza è single di Donato d'aiuto, evento organizzato dall'associazione Cilento Capitale. Grazie di essere qua, grazie a te che hai organizzato alla perfezione della serata il Draft che ci ospita e a tutti voi. Tutto bene, ci troviamo in un locale bellissimo, qua a Vallo, che ci ha ospitato per questa prima presentazione a Vallo. La prima in assoluto l'ho fatta a Salerno e stasera siamo a Vallo grazie ai ragazzi del Draft. Il titolo è venuto dopo la scrittura del libro, quindi alla fine ho voluto dare un titolo che potesse essere allo stesso tempo simpatico ma potesse anche riassumere un po' le vicende vissute dai protagonisti. Capito, ma è autobiografico? No, non è autobiografico. Fortunatamente la mia fidanzata non è single e quindi questo diciamolo subito per evitare problemi poi quando torno a casa. Allora, è la storia di un personaggio, Diego, e dei suoi rapporti, rapporti con la sua fidanzata e quello molto stretto col padre. Diego è una persona che ci tiene molto ai rapporti che riesce a mettere in piedi, è una persona che mette del sentimento, quindi impronta ogni tipo di rapporto a un qualcosa di vero, di sentito, di profondo, cosa che al giorno d'oggi e come si può leggere anche nel libro non è assolutamente matematico, non è sempre così e quindi si trova a dover affrontare degli ostacoli rispetto a questo suo modo di approcciare nei confronti delle persone. Allora, l'idea nasce un po' da lontano, nel senso che Cilento Capitale nasce qualche anno fa per presentare il Cilento in tutte le sue forme a Roma, come prima edizione a Roma, con questa manifestazione che prende il nome proprio Cilento Capitale. Cilento Capitale perché vuole mettere in mostra tutti i capitali presenti nel Cilento. Nel 2019 abbiamo pensato di proporre anche nel Cilento tutto ciò che può essere il capitale Cilento, quindi adesso partiamo con la presentazione di questo libro di Donato perché mi sembrava carino iniziare con un testo anche molto fruibile per tutti. Il Donato è al secondo libro che scrive, quindi diciamo già abbastanza rodato da questo punto di vista, da questa sua passione, chiamiamo la passione per il momento e quindi niente, partiamo da questa cosa. Il libro nel pub perché di solito le presentazioni dei libri possono risultare anche un po' pesanti, un po' uno si scoccia e invece l'abbiamo pensata con qualcosa molto molto semplice, anche di cercare dei momenti di socializzazione oltre a stare seduti, ascoltare e poi battere le mani, ciao ciao e tutto.